Tolga Saritas sta seguendo le orme del suo caro amico Engin Akurek. Il famoso attore Tolga Saritas è apparso davanti ai suoi fan nell'ultima serie tv chiamata, Fault. L'attore, che ha formato un'ottima coppia con Aika Aya in Turan, ora si riposa dopo una stagione di successo. Tolga Saritas è uno dei nomi che ha conquistato l'ammirazione delle masse negli ultimi anni. L'attore, di cui si è parlato con la sua interpretazione nella serie tv del soldato Theot, è riuscito anche a impressionare milioni di persone. L'attore, che ha rafforzato la sua carriera con i progetti che sono seguiti, è sotto i riflettori anche con la sua vita privata. L'attore, innamorato della stilista Zeynep Mayruck, sta facendo del suo meglio per non essere all'ordine del giorno della rivista. L'attore è noto per non condividere troppo sui social media. Tolga Saritas vuole che la sua vita privata sia tenuta per sé, proprio come fa Engin Akiurek, e sta attento a non perdersi di vista. Saritas, che voleva solo essere all'ordine del giorno con il suo lavoro come Akiurek, ha fatto meravigliare i suoi fan con il suo nuovo progetto cinematografico. Tolga Saritas e Engin Akiurek si sono incontrati nel film Your Way Is Open. Si sta lavorando molto sul set del film, che è stato girato per Netflix. Notevole anche l'incontro di Engin Akiurek e Tolga Saritas nel progetto diretto da Memetta di Aostekin. Con il suo comportamento, Saritas dà anche la sensazione di seguire le orme del suo caro amico Akiurek. Tolga Saritas, che non vuole apparire sulla rivista come Akiurek, ha spiegato questa situazione nella sua intervista con Uriet. Questo è il mio stile di vita. Nel mio tempo libero passo del tempo con i miei amici. Siamo a un ritmo molto impegnato mentre lavoriamo, non c'è molto tempo per socializzare. Ho sempre voluto parlare del mio lavoro, della mia professione e della recitazione. Essere presente con il mio lavoro mi fa sentire bene. Volume trattino basso app content trattino basso copy share star trattino basso border.